Siamo presso la meravigliosa biblioteca Nannino Di Giovanni, patrimonio culturale della città del Longano, con noi la professoressa Maria Rosa Naselli che gestisce con cura e dedizione questo patrimonio caro alla cultura locale. Buonasera, sono contenta che questa sera la biblioteca possa offrire l'occasione per presentare una nuova scrittrice. Intanto è la biblioteca Nannino Di Giovanni, la biblioteca comunale di Barcellona. Come si diceva, una biblioteca ricca di libri, ma anche ricca di presenze, ricca anche di stimoli. Le varie attività che vengono fatte in biblioteca servono proprio a far conoscere il ricco patrimonio di cui la biblioteca è proprietaria. Noi come comune abbiamo una biblioteca dedicata proprio ai ragazzi, la biblioteca dell'Oasi. Le altre attività sono attività culturali di incontro con l'autore, attività istituzionali di una biblioteca, attività culturali, ci inseriamo nelle manifestazioni nazionali come il Maggio dei Libri, cerchiamo di porre l'attenzione sui vari problemi che la nostra società affronta, però partiamo sempre dal libro. Per voi abbiamo preparato un'anteprima girando un po' per Barcellona, cercando di scoprire chi è l'ospite di questa puntata. Vediamolo. Irene Condonato è un dono di Dio per me e per questa città e per la famiglia e per tutti. Irene Condonato è una ragazza modello, è una ragazza che mi ha fatto capire cosa bisogna fare nella vita perché è un modello da seguire, in quanto in un periodo in cui gli adolescenti non hanno ispirazione, si lamentano perché Barcellona è una città morta, la definiscono una città morta. Bene lei è stata un input, è stata quella convinzione che basta volere qualcosa per riuscire ad ottenerla. Vedere una ragazzina che in un tempo in cui si parla tanto del disagio giovanile ti sa tradurre i suoi pensieri, i suoi sogni in una forma anche elaborata e artistica. E' una ragazza grande, è una ragazza da ammirare, nonostante sia più piccola di me di un paio di anni, ma posso affermare che il fatto che abbia scritto un libro non influenzi il mio parere su di lei perché o se lo influenza, lo influenza positivamente perché già da quando l'ho conosciuta ho subito ammirato in lei, ho subito stimato la sua intelligenza, la sua caperbietà, la sua decisione e la sua determinazione. Devo dire che la sera in cui c'è stata la presentazione del libro, per me come direttore di questo oratorio è come se raccogliessimo i fatti più belli del nostro vivere, del nostro servizio. Lei è stata molto determinata fin dal primo momento in cui ha deciso di scrivere questo libro. Lei mi ha raccontato di non aver iniziato a scrivere questo libro proprio con lo scopo di scrivere un vero e proprio libro ma è stato uno sfogo per lei perché nel momento in cui siamo uscite dalle scuole medie aveva il timore di perdere quelle che per lei erano le sue amiche più care. C'è stato questo incontro proprio come diciamo noi con l'autrice e Irene appunto ha sorpreso un po' tutti perché infatti lei inizialmente diceva proprio di essere timida però di fatto alla fine non si è dimostrata così proprio perché è stata in grado di rispondere brillantemente a tutte le domande che le hanno fatto e anche comunque lo stesso sorprende perché è una ragazza di 16 anni che scrive un libro e che ha un modo di parlare così appunto spedito e appunto è abbastanza scorrevole diciamo fa restare un po' tutti sorpresi. Offrire ai giovani un ambiente educativo dove crescere insieme, avere dei sogni, vivere nella gioia e anche coltivare progetti, servizi, animazione come il suo gruppo, come lei fa, è qualcosa di fondamentale nella crescita. Irene è un dono di speranza per tutti i suoi coetanei. Ben ritornati e qui con noi è una giovane promessa per il territorio locale, Irene Condonato, 16 anni e già scrittrice di un romanzo dal titolo Il Club dai sogni dimenticati. Benvenuti Irene. Buonasera, è un piacere essere qui con Giorgio e lo ringrazio per l'opportunità che ha dato sia a me che al mio romanzo. Cominciamo subito con una prima domanda. Com'è nata l'idea di questa storia? Diciamo che quando l'idea di questa storia è nata non sapevo che sarebbe diventato un libro, quindi è stata una cosa molto spontanea ed è successo nell'estate tra la terza media e il primo anno di superiori, perché chiaramente è quel momento che fa un po' paura a tutti i giovani, perché si tratta del periodo della scelta, di una scelta importante per il nostro futuro, che sicuramente non è quella più importante della nostra vita, però è la prima. E quindi per la paura, la tensione di affrontare un nuovo cammino e anche il pensiero di rischiare di perdere tutte le amicizie che avevo coltivato nel corso delle scuole medie, ho sentito l'esigenza di scrivere e quindi di raccontare, di parlare di quello che era per me l'amicizia. Professoressa Naselli, 16 anni è l'adolescenza che permette di sognare, ma i sogni non conoscono limiti d'età per sviluppare l'idea di scrivere. Barcellona da questo punto di vista può permettersi di avere in pugno giovani scrittori? Certamente noi abbiamo nel corso di questi anni in cui sono stata qui a svolgere la mia attività in biblioteca, ho visto passare diversi giovani che hanno pubblicato libri, romanzi, poesie, qualche biografia, però sinceramente giovani un po' più adulti rispetto a Irene. Irene proprio ci ha sbalorditi anche perché questa è un'età in cui ci si dedica di più ai racconti brevi. Fare un romanzo, comporre un romanzo come quello di Irene, ben articolato, con un intreccio piuttosto complesso, con un genere narrativo che è quello del thriller e a volte quello del noir e sinceramente non è una cosa comune. È chiaro che non tutti hanno la costanza che ha avuto Irene e anche la serietà che ha avuto Irene di dedicarsi come dicevo prima ad un romanzo piuttosto elaborato. Però credo che Irene stia facendo da apripista perché il desiderio c'è della scrittura, ma a volte si è titubbanti, non si ha il coraggio di esporsi per tanti motivi. Irene ha dimostrato che se uno ha un sogno lo può portare avanti e lo può anche realizzare. Caro Matteo, proprio perché nemmeno io saprei cosa dire di me. Sono una ragazza che frequenta il liceo classico, ho la passione oltre che per la scrittura, anche per i libri, per il teatro e poi mi piace frequentare l'oratorio Salesiano che è un punto di riferimento importante non solo per la mia vita, ma anche per la vita di molti giovani e nonne che ci sono passati, ci passano e probabilmente ci passeranno. E poi sono molte le mie passioni e come anche i protagonisti del libro, un giorno voglio una cosa, un giorno ne desidero un'altra, quindi sono un'adolescente a tutti gli effetti, credo. Vivo una vita abbastanza attiva, divisa tra la scuola, tra l'oratorio e tra le mie amiche. La scrittura è un hobby, un passatempo che fa da contorno a questa vita normale. Cosa si prova a vedere un libro in mano con la propria storia raccontata? La prima sensazione che ho provato è stata quella di sentirmi piena, nel senso che ho toccato proprio con mano quello che era stato il prodotto di tre anni e quindi di quelli che per un adolescente sono quasi una vita, perché a tre anni, a sedici anni sono tanti. Mi sono sentita piena, però al tempo stesso mi sono riempita di domande. Che cosa farò? Come mi devo muovere adesso? I miei genitori anche mi hanno detto adesso tu hai avuto il coraggio di metterti a nudo davanti a tutti. E a quel punto io mi sono sentita un po' confusa, perché io avevo scritto questo libro, ma non credevo che sarei arrivata a questo. Quindi molti mi dicono che ho avuto coraggio, quando in realtà io ho solo inseguito un sogno. E quindi questo mi fa pensare che talvolta non serve coraggio per inseguire i propri sogni, perché se si desidera veramente una cosa, alla fine si riesce ad ottenerlo, quantomeno la strada per raggiungere questi sogni non è mai tortuosa, perché lo facciamo con piacere. Tanti sono i contenuti di valori, di te, di manifestazioni d'affetto. Un termine che ha rilevanza maggiore nel libro è l'amicizia. Per te che cosa rappresenta? In questo momento della mia vita l'amicizia rappresenta tanto, soprattutto perché sono ancora un'adolescente e quindi è normale che sto muovendo i miei primi passi nel mondo alla ricerca di punti di riferimento diversi dai miei genitori. Come giudicheresti il tuo libro? Questa è l'unica domanda alla quale non so proprio rispondere. Nel senso che giudicando il mio libro giudicherei un po' me stessa e quindi riconosco che c'è molto da migliorare ma penso che ci sarà sempre qualcosa da migliorare, da sistemare. Cosa hai in mente di fare nel futuro e se scriveresti un seguito a questa storia ovviamente? Il seguito non lo so, sia perché per adesso almeno non è in mente niente, sia perché comunque vorrei dare l'opportunità ad altri personaggi di esistere. Per quanto riguarda il mio futuro ancora c'è molto tempo, come amo ripetere a tutte le persone che me lo domandano, non solo perché effettivamente di tempo ce n'è molto, mi mancano ancora due anni e mezzo per finire il liceo, ma anche perché non sono ancora pronta a scegliere la mia strada per il futuro e non so quale università decidere. Comunque spero un giorno di fare un lavoro che soddisfi me e che nel contempo aiuti gli altri e trasmetta qualcosa agli altri. Irene, siamo arrivati alla fine di questa presentazione, penso sia necessario lasciare una dedica a chi in questo momento ti sta ascoltando. Intanto lo ringrazio per avermi ascoltato, spero di non essere stata noiosa, ringrazio Giorgio per l'opportunità che mi ha dato, ringrazio Maria Rosa per le parole gratificanti che mi riserva sia qua sul set che al di fuori del set e poi consiglio a tutti di leggere ma non il mio libro, di leggere in generale. C'è una frase bellissima che è scritta anche nella locandina della biblioteca comunale di Daniel Pennac che dice il tempo per leggere come il tempo per vivere di là del tempo per amare. Spero di non aver sbagliato qualche verbo, però super giù il significato dovrebbe essere questo. Quindi vi auguro di essere dei buoni lettori e di vivere la vostra vita sia tra i libri che al di fuori di essi. Ringraziamo la professoressa Naselli che ci ha ospitato presso la biblioteca Nannino di Giovanni, ringraziamo la giovanissima Irene per la sua disponibilità, vi invitiamo a leggere il Club dei Sogni Dimenticati, edito della casa editrice Chimeric. Ciao a tutti, alla prossima!